Cos'altro possiamo fare allora? Allora, dicono Sion, Zilean, bomba sul Minon e Sion tira il calcio Se vuoi proviamo Chi gioca a Sion e chi gioca a Zilean? Vuoi giocare a Sion? Io gioco a entrambi, quindi scegli te Vado a Sion Ok A me diverte giocare a Zilean Ok Ah no, perché Zilean lo gioco sempre io nelle comp, di solito Se vuoi, io ogni tanto lo gioco divertente Puoi fare Sion a P con la Comet Eh no, 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 lo facciamo a P, sì, sì, sì Ok, ok Facciamo il Nuke Bomb Allora io vado di Comet e Chipshot Sì O non è meglio Dark Harvest? È mal fatto che il Dark Harvest lo procchi solo quando ha meno di metà vita Io vado Dark Harvest, perché prima hitta la tua, poi la bomba Ok Ok E poi la tua è Slowa, quindi è perfetta con la Comet Secondo me Vado, vado, è Absolute Focus o Trascendence? Nel secondario sai cosa... Io metterei Trascendence per vedere il CD Fai tipo Mana Flow, Trascendence, Scorch Ok Io farei così Nel secondario potresti mettere sai cosa? Potresti mettere il... L'Approach Velocity Così appena hit la E c'hai la Moving Speed per avvicinarti e spaccare anche la W che fa dei bei danni Eh, però potrei fare Chipshot Potresti fare Chipshot, così hit la E e se non hit nessuna spell non l'attivi dopo Ok Allora vado, Approach Velocity e... Futures Market, Scarpe, Biscotti? Eh... Scarpe, Biscotti... Boh, le scarpe stanno bene su tutti, con le scarpe Ok, tipi tutte e due Ok Vamos Ok, vediamo Peccato Vediamo Ivan Friedl funzionava, eh? Sì, mi sa che una volta l'ho fatto ed è fallito pesantente, non mi ricordo se racconti o con altri No, era con me Non volevo ricordarti, speravo non te lo ricordarti Ma scusa, piuttosto, piuttosto Nocturne, la comp dello spavento Si spengono le luci e si multa compito Eh, ma quella l'abbiamo già fatta Sì, tre anni fa Tre anni fa l'evento Intel Se parli dell'evento Intel, sì L'Intel Showdown Con il grande Fieric, più Deidara, più Chuck, più Cole, più Raresh Minchia Che comp Che ci flammarono per essere tre yard Cioè, l'apo Sì Lui aveva preso, mi ricordo quella di carry Grandmaster di carry L'ha messo di carry Invece avevano detto Dai, mettiamo tutti questi propelli Tutti in ruoli che non conoscono, no? Mettiamo tutti un po' a caso Ho messo Raresh Toplin to jungle E bot c'era, c'era Chuck con Cole Che giocavano, cos'era? Giocavano Sion e Sisi, farmi Sion, Pyke, tipo una roba del genere Sì Sion Pyke o Galion Un po' roba del genere Io dicevo le mie comp Cos'è che fa più male? La V o la E maxata? La E? E... Sì, 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 sì La E Ma anche perché è quella che dovrà hittare Cioè, alla fine la E ti dà un... Rubbiamo il red da Ekarim? Perché? Ma perché dobbiamo rubare il red buff? Non lo so Già, guarda, poverino Già c'ha 250 di ping Non infierire Non se ne accorge Dove lo prendiamo? Dai, una volta No, no, no Già prima... C'è pure Ari, guarda che gli dà la mano Sexmaster danni Guarda, guarda Guarda, Ekarim... Guarda, Ekarim merita Perché ha capito che non lo pulliamo Sa di avere un champion che fa danni a OE Cosa fa? Va a fare i Raptor Secondo me lui merita di vincere Eh, ma non è sempre così T'ho sicuro Sai quante volte Ecco, il Kane Che vuole startare tipo top Dal blue buff Completamente a caso E mi chiede il pullio Tipo, bro Sei Kane? E lui Help, Omg Report Help, help Mi è starto comunque di Q, eh? Sì, sì, ovvio Assoluto, il grande ballo di Zilan Vai, Samira Questa è hittata, hai visto? Sì Ma sei bravo Fieric? Eh, Fieric Sono morto Stato shottato Ma perché? Alistar mi ha fatto i danni di Samira comunque 300 danni a testa hanno fatto Non si sa in quale universo Vabbè Ti ho visto che ti sei spento proprio Hai camminato verso Samira Non ti sei reso conto che Alistar Stava devastando di mazzate, infatti Ma non so come Alistar mi abbia devastato di mazzate È un Alistar? E mi è baffato per la top Giusto Tieni un po' di exp Perché ti vedo perito Ah, è sbloccato lei No, la W doppia io Ah, tu E io lei No Altra bella kill a Samira No Sì, volevo tirare il Dark Harvest Ma pensavo che fossimo messi così male E poi c'è una cosa Che loro avevano Due summoner forti Noi avevamo Il TP È muore, muore? Oh, oh Ok Ma gli ho tirato tre anni È bello Che ti spido Ti spido il cadavere Sì, sì, sì Sei andato a pressione What the fuck Zilean Zion New comp Tuk Il Dark Harvest per me Il Zion Immortale che Resuscita con il 30% di HP Ma il 30% sono tipo 2000 È bello, eh Bomba, bomba su questo Oh Oh Vai Bello Ma poi c'è rimasta dentro Non ha neanche dubitato per un secondo Non ha dubitato nemmeno per un secondo È proprio Io ci entro Che che col Che che cock Cock GG Tuk È divertita È divertita pure lei A prenderlo in culo Non pushare, non pushare Lo metto su questo in caso Ok Vado Vai E Evitare quello Eh, non è così scontato Scusa lei Eh Vabbè L'avevo doggiato ma A mia moving speed Non serve un cazzo Vai La mia bomba del sacrificio Comunque non esistono più gli iron Purtroppo Eh, questi sono La full combo con Samira La full combo con Alistar Non esiste proprio questa roba Sì, 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 non si stava strozzando Rik deve andare a full AP Eh ragazzi, sta andando Sì, sì, sì Eh vado C'avevo un oggetto Starting item avevo Non è easy Non è easy La edition comunque Perché non sei allineato Allenato come me Non sei neanche allineato Sapessi io quante volte Eh Eh, mi sa che è morto il minion Vai Oddio, c'è un tizio Sono morto Assolutamente sì Ma come pure la gank Nah Eeeh Così Vedere i nomi Nah Ma cos'è questo tryhard? Non lo so Ce la faremo Eh sì Allora, io ti do anche un consiglio Eh Eeeh Non farti colpire da Alistar Ok, grazie Io sono a bronze davvero La full combo di Samira Le sbaglierei Eh no Infatti Sì Non è facile Il fatto che Il concetto è che Non Cioè I bronzi legit Sono davvero pochi O giocano comunque poco Ecco Cioè A noi sembra strano Ma Gente che Inizia a giocare adesso A LoL Ce n'è quasi nessuna Beh no Qualcuno c'è Mi vengono Almeno In Ho tre anni che estremo Almeno cinque persone nuove Le ho viste Vabbè Ok Dai dai su Il million caster Il million caster che si vede La full Q di Sion Chargeata al massimo Vai Sdong Ok Ok I danni sono ancora pochini Era meglio con Tamkench che faceva Ma Ma i tempi C'ho una clip con Con The Game In cui shottiamo una Lux full vita Con Tamkench Quando sputava il minion Con la bomba L'ho fatta L'ho fatta Io andrei back Che c'ho un po' dei soldi No dai Una combo qua Su Samira Non ci casca Secondo me Vabbè Tanto 40 secondi al TP Massimo viene Alistra e guarda Via Oh però Andar chiave sto preso Com'è accaduta sta cosa Mi sento Sparisce un minion Ok abbiamo la way frizzata Go Spariti questi Ok c'è anche Quell'altro È un derby che c'ho il TP Vado Ah lontanissimo Adestar stava camperando Ah pure sta combo Da fare contro Degli Iron Legit Perché C'è alla fine Stati di calciare Un minion È troppo prevedibile Non si può fare Con gente calciare vello Senti secondo me In Grandmaster Ci potrei vincere Almeno un game Vado eh Ok Oh bello Oh Boom La mucca La mucca Segs Guarda la mucca Arrivo Guarda la mucca Off Boom Ok Non faccio un cazzo di danno Dì che abbiamo fatto una volta il calcio della bomba Due Due Una bella bomba in testa Ok becco e tipo Può rimanere se vuoi E che ho 3k gold O il Luden Io ho 800 Vabbè aspetto Yes Luddens Zion Bomba Eh Un'altra ne ho eh Vado 2 secondi Vai Eh vabbè Ah c'ho la ultima Oh 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 Ok Se lo guatto Oh no eh Dove vai Arist Dove vai E qua Bello di mamma Oh Bel flash Oh Oh Egarim Guarda l'altro che merita questo Egarim Effettivamente è un po' memato Ecarfim Tieni un po' di ex Oh manzar Manzar pure Pronto charge alla Q Ok charge eh Ok Bravissimo Io no Tutti Quattro Quattro persone bot Tra la Nafiri che è morto Quanti me ne riesco a portare dietro a seguirmi Non ti stanno più Vai Recolla lì Mi sa che arrivi a Nafiri perché è spawnato adesso Ah dovrei farcela Ok Tic tic tuc 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 tic Sì vado di Shadowflame Dai Cinque persone bot comunque Incredibile Contro Zion Zion Che stanno vincendo Ah lì stanno ancora a Ticerca XTD Ah ecco le mid Perché sono andati mid questi Sono pazzi Sione live Oui 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 Eh sì Qua stanno rubando una macchina Si sta ogni tanto Però per poco Vedi che ogni tanto si ferma Poi la suoneria lì Oui 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 Finita Hanno finito di rapinarla Ok Arrivo a sluvare Malzare Tienilo Tienilo Gli mandò I suoi biselli addosso Flash Eccomi Stunalo Sluvalo Stunalo Adesso sono silenziato Ok Ma sono un kamikaze Però mi hai messo due bombe In testa da morto Io da cosa sono morto Ignite Comunque sei proprio un troll Arrivo Eh sì no mi ha silenziato Eh sono arrivato Tu mi hai detto slow Wallo io Eh mi ha silenziato Cosa c'è di che non capisci Perché Ari dice Rapportion for trolling Ari? Boh Non lo so Stiamo anche vincendo Il Garen dice di gnola Oh Questo vede il mio stream La mattina Ma sta giocando contro Nafiri top Fortissimo Tic 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 Perché adesso Malzare il bot laner Ah proprio hanno swappato Why Tom Tate Ok Andiamo mid noi Andiamo tutti e tre Andiamo in tre mid Dai ero finalmente Arrivato da Malzare Vabbè decidi tu Ci sono Tanto mid non ci conveniamo molto adesso Ok Ma vedi parlano italiano Parlano No hai sbagliato Eh mi sono indicato I reti dell'Udens Vero che tu ste cose Non le sai Cioè? Se tu usi Se una PC Fai il Night Harvester Perché se fai l'Udens Hit il minion Con lei l'Udens Parte sul minion Non su di loro Ah Invece fai il Night Harvester Parte su di loro Eh questo Vabbè ci sta Non tutti purtroppo Hanno il sapere Eh sì Io c'ho Il sapone Bomba Eh Vedi adesso Se tu tiri la E Fai Ok Stavolta è andato Però fai talmente danno al minion Che deve essere Deve avere tanti HP Sennò lo shot Ti colludi il minion Appena crei piselli Fai una Q Vieni qua Bomba Tienilo un'altra per sicurezza Ottio Hai sposto tutto Sul cannon ora eh Ce l'ho Ora Eh Vabbè vabbè Oh guarda il minion Vado eh Vai Bello Oh Bello Il charge To Alistar Tieni sta bella Bombetta Sta arrivando qualcuno To Ah è Nafiri Sta arrivando con la mia bomba Nafiri Arrivo No Mi ha tippato Rianimami il clone Ah Non funziona Come no Veramente Non lo so Non ci ho mai provato Vedi troll Ti pingano Ping 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 Io non vedo nessun ping Anche un incidente sotto casa Oh Io faccio tanti danni In questo momento Arrivo Ma fa una passeggiata No ma com'è Stay here Non c'è nessuno bot Eh vabbè li facciamo venire Eccoli 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 Sono qui Attenzione Eccoli Odio Odio Eh vabbè ragazzi Ma questo lo sto saltato in testa Ma che roba è C'è più religione a queste parti Questo è perché segui le call 2 Sì Mi salto la E Vai tre li sgorbi indietro Quasi Arrivo No che sculati Slow Presa Tuk Mio Che ci vuoi fare Quella build orribile Poi Ma la mia build è buonissima Eh Oh A caso Oh Malzars Il colpo di Bocelli Eh muori eh Ma no Sono un tank Reprotesione trolli No ma No ma No ma No Io allora faccio così Guarda chi c'è qui Un amico Non mi vedono eh C'hanno visto Oddio Io me ne vado Vuoi dire che sappiano tutti dove sei prima di mettere la ward Oh Tieni Guarda Samira Guarda Alistar si è distratto Quasi Provare Mi ha camminato accanto Guarda Ma qua Ma dove vai Beccati la mia boom bet Strunz Fa veramente cacare sta con È proprio brutta È bella proposta L'hanno proposta i fan È ovvio che fa schifo È la regola Avranno visto una clip su tiktok Che abbiamo fatto anche noi eh Parla su 6.000 livello 4 E basta Sì E basta E hanno detto Eh provate che figo È tipo le tipe che si fanno Tutte truccate Belle su instagram No Con i filtri Magari che il clip su tiktok Era anche fatta in custom Contro degli amici Tanto non è che ti viene scritto Che non era anche Era meglio con Yorick No ho provato anche con Yorick È una merda anche con Yorick Stesso concetto Che fa? Perché se Yorick hita la E Tu metti la bomba sullo sgorbio E lo sgorbio salta sodosso il nemico È la stessa cosa È una merda uguale È una È la classica combo tiktok Dove fai la clip della madonna E poi di base fa schifo Però fai la clip della madonna Quando ti esce Oh qua Aspettate faccio il check Metterlo su grump Ok Oh il grump kamikaze Ne spingo un altro Tu puoi stare lì tesoro Ecco qua Oh grump alla fine è morto È morto di danno collaterale Mettimi la volti Mettimi la volti Mettimi la volti Dove sei? Ah scusa non ti ho visto C'è qualcuno davanti Non ti riconoscevo Mettila volti Io ho guardato in basso sinsetto Ho detto Perché sta morendo Guardo Dico ma scusa Non hai poca vita E niente Ho scoperto che ti eri tipato I riflessi da trentenne Fieric Ho capito Ma scusami Puoi spiegare quello che stai facendo Se cos'è mettimi la ulti Non t'ho visto Non sapevo dove eri neanche Ormai sei da Baldur's Gate È inutile Può essere No perché Il piano mi è venuto Ma sapevo che era una brutta idea Che non me l'avresti approvata E quindi ho detto Vabbè Sai Tipo Se dice a qualcuno Qualcosa sotto pressione È più probabile che ti dica di sì No? Ah sì Quindi ho detto Ho detto Sai mettimela ulti Mettimela ulti Magari me la mette Senza chiedere No? Sì Ma io non ho capito Quale era il piano Quindi Eh tipavo Mi faceva voltare la manza E avevo la ulti Mi faceva ridere Vado eh Mettimmi una bomba Eh Bello Bella l'idea Meno l'esecuzione Sì Oh guarda di che stun Oh mia Che palle malzaro Vai Garen And he's alive Oh Vai Dedo La ulti Non ti capiterà nulla Di brutto Oh vai Garen L'ho ultato davvero Guarda che stun Via 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 Oh 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 Ti penso che Zillan Sia veramente uno dei support Più belli che esista Vabbè Si può Guarda Vai col kamikaze Guarda lì Guarda lì Guarda lì che danno Dong È fatto proprio male Zillan Comunque Ma sai che invece Il Sion kamikaze mi piace Peccato che hanno tolto la prowler Avremmo fatto prowler Sion Sarebbe stato bellissimo Le cose vertenti le tolgono sempre Sì la speed me Vai accanto ad Akarim E speedati due volte per piacere Escrivi solo Ma Akarim è dall'altra Akarim è dall'altra parte Della mappa Eh no dico però Quando ci sei accanto Vai Ti speedi due volte Fai misclick Sdong Sding Ah 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 Scemo Io faccio così Non so cosa tu faccia Campione Ma io faccio così Bello È il cream è Intergetabile Perfino dalla me Quando C'ha la dractar attiva Ecco Benissimo È carino È carino Ding 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 Garen pookie left me Cosa vuol dire Non so Lì faccio una play eh Tiene un po' di exp Bomba 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 Guarda questa play Guarda questa play Se vuol ultare dimmelo che Quando ulti Che prendi velocità Ho capito ma Vedi Me ne vado Madonna Non so Ti shottassi È morto Eh ma alzar Kamikaze No Non esplode Brutto che non esploda Cosa è triste Il Luden Il Luden però Vedi che mi ha fatto Un sacco di danni Guarda Mi ha fatto 200 Pensa a te Se ci fosse Un oggetto Che ti permette A fare la stessa cosa Ma Vai passando Il danno Sui minion Poi finisco il mano Alla Costa 55 Solo 1800 Di mano Sì ma Quante volte Di usarla Ma che ti pinga Ti sta perculando Eeeh Bobby Tuck Eh Bombetta Edz Conto è bello Dare la moving speed Con Zillian Vedi gli alleati Veloci C'è il number one Zillian enjoyer Tipo Trovo che Sei divertente Più che altro La parte Da moving speed C'è bello Avere il 99% Moving speed In più Se ci pensi Oh vedo Che stavano Tutto bene Tutto Secondo i piani Provo ad arrivare Resisti Sono morto Di cacca Di cosa sono morto Bro Hanno pisciato I cani Ora chi ulto Non ti posso ultare Hanno pisciato Però non sono morto Di nulla Bro What Tuck Tuck Voglio fare un one shot Con la Con la w Ma non riesco Tuck Comunque la w Doppia Secondo me è tipo Una delle spell Più broken del gioco La w Doppia Sì Scala anche a p Sia lo scudo Che il danno Non troppissimo E fa Il 14 max health Magic damage Anche sì Oddio Guarda come vuole Flashano per raggiungermi Wow Allora Void Bleed Vado cool Rabbadone Tic 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 Ecco Guarda vuole ucciderti Ce l'ha con te Impazzito Capisco Vado eh Vai vai Eh Sono troppo lontano Per mettere la bomba Oh che palle Stabilità di merda Guarda Precisa Tic Dai Fermo qui Alistar Vai su quel Malzar Vai vai Ma quanto sei veloce No No Il colpo dell'ignoranza Il dash A cross the map Dell'assassino Guarda qua Guarda qua Ah Mo' li sparo Il cadde in testa Wow Da lì che bello Ding ding Ci dicono Veigar Victor Che facciamo L'angolo Rotture Però Ah Pintosto Se devi fare qualcosa di stupido Con Veigar Ci metti Alistar Che spinge Al muro della gabbia Quelli dentro Quello è veramente Stupido Veigar Alistar Gigi Bene 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 Ho sbagliato Mi sono auto reportato In all chat Per 0 1 4 9 Sion Ok Fanno piega Andare a picchiarsi Adesso Sì ragazzi Devo andare a fare A fare A fare le botte Deve fare le botte Deve fare le botte Deve fare le botte A fare le botte A fare l'e-sport Per Per i macachi Va a picchiarsi Non è nobile Sì che è nobile Un'arte marziale Vai a picchiarti Anzi Vai a prendere le botte Probabilmente No Ancora non ci fanno Prendere schiaffi Che fallite Anche gli istruttori Come mi fanno Prendere schiaffi Il primo giorno Apri la bocca Ho capito Ma bisogna Cioè Bisogna insegnare Non ti sa reggere in piedi Non è che ti insegni A prendere mazzate Non sa reggere in piedi Picchiare è la natura Di ogni persona Cioè l'autodifesa Il difendersi Vabbè Cioè vallo a dire in strada Al tizio che non sa Reggersi in piedi Uno in strada Deve picchiare Cioè capito Uno in strada Non si sa reggere in piedi Eh certo Sì Va bene Uno in strada Non sa reggersi in piedi Ma uno in strada Casuale Contro uno che farsi marziali Cioè tipo Non ha speranze Infatti Ma tu non devi mettere Quello che far Quello che Preso dalla strada Contro uno che farsi Tu devi prendere Due novelline E farli picchiare Ok Quindi Proprio Come farsi il più male possibile Anche da soli Come farsi il più male possibile Vabbè ma le basi Cosa ti devo dire Ma che pussi Non ci sono più domini una volta Lo vado a dire a Michele Dico guarda senti Michele Michele Fammi riempire di mazzate Con l'amico mio Eh certo È esattamente Quello che deve succedere E poi posto i risultati Su Instagram Before and after Bravissimo Va bene Va bene Deido Vai pure Ci vediamo domani Per fare il giochino Dai A domani Adesso sentiamo anche con gli altri Yes Va bene Ciao ciao Io faccio altre docu Ciao 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 ciao